Il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte con gli assessori alla sanità e agli affari istituzionali hanno ricevuto a Palazzo Lascaris durante la pausa dei lavori d'aula del 27 marzo due delegazioni, una dei sindacati confederali sanità, l'altra dell'RSU dell'ospedale Medeo di Savoia e di associazioni del territorio che operano a tutela della medesima struttura. I vertici della regione hanno chiarito che qualsiasi decisione sarà prima avagliata in commissione con un ampio dialogo con tutte le parti interessate, sindacati e associazioni comprese.